Musica Sovraia Mannella saluta il Mountain Bikers Club Ringrazia per questa presenza ed è lieta di accoglierli nella nostra città nella città di Sovraia Mannelli, la città che ha dato luogo all'epilogo della spedizione dei Mille una città che è nota in tutta Italia per i suoi trascorsi culturali stamattina saremo allietati da 200 Mountain Bikers, siamo veramente orgogliosi di questo speriamo che si trovino bene, il panorama è molto bello, la campagna è molto bella faranno un percorso straordinario nel mese di maggio e che l'epilogo si svolga nel migliore dei modi qui nella nostra piazza Grazie 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 Grazie